ciao a tutti io mi chiamo Assunta vengo dalla Sicilia anche se ci tengo sempre a sottolineare che sono nata in campania infatti mi sono sempre divisa tra queste due bellissime regioni del sud che amo profondamente e mi trovo qui a Faenza da poco più di cinque anni sì sono arrivata qui la prima volta alla fine del 2014 è per una supprenza a scuola e in quell'occasione grazie a un nostro amico comune luigi abate e mi ha presentato i carissimi eccezionali fantastici ragazzi del teatro de monti con il quale ho fatto una bellissima esperienza che è durata qualche mesetto fino a che ovviamente è durata la mia supprenza e sono stata immensamente felice di conoscerli perché mi sono trovata dal primo momento come in una grande famiglia per me è stato molto importante perché innanzitutto sì mi trovavo una città completamente nuova sconosciuta seppur bellissima come Faenza e poi nutrivo un piccolo dolore dentro di me di cui non parlavo granché con tutti e avevo lasciato a casa giù con i miei in Sicilia il mio bimbo di allora sette anni che mi è mancato tantissimo immensamente in quel periodo e aver conosciuto i ragazzi del teatro de monti è stato bello importante perché con loro ho fatto delle fantastiche esperienze dal laboratorio senza confini a tutte le azioni che abbiamo fatto in piazza e non solo a Faenza e mi ha aiutato tantissimo ad affrontare questo primo periodo di lontananza e di distacco da mio figlio ecco ecco il lavoro più grande che faccio infatti a tutti è quello di avere veramente tanta tanta serenità e buona saluta cose non affatto scontate in questo periodo e che possa subito finir presso tutto ciò che potremo ritornare tutti prestissimo a rivederci a stare insieme a riabbracciarci grazie per questa bellissima opportunità vi saluto tutti con grande affetto grazie per esserci ciao